Sof sull'amici, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con una sfida tutta nuova dai sapori un po' di guini, ma ne scopre di più di più dopo la sigla. E eccoci qua ragazzi, oggi partiamo dal CAS, cosa inusuale per me ma è un motivo particolare, è l'inizio di qualcosa di nuovo, una challenge, ma non è una di quelle legacy che già conosciamo, non è una di quelle fatte, bensì una tutta nuova inventata da me insieme al Rebel Daydream, di cui vi lascio il link qua in infobox, andatela a vedere, lei è nuova su YouTube ma so già conoscendola, che porterà molti programmi interessanti, serie molto belline, quindi guardatela, e anche lei sicuramente porterà questa legacy, la Olympus Legacy Challenge. Lei è la protagonista, è la founder di questa generazione, della prima generazione, ma vi dico un attimino le regole generali. Intanto si parte con un sim giovane adulto, femmina, e io infatti ho fatto una femmina. Non si possono utilizzare trucchi o mod per avere più soldi, o per ovviamente aggiungere abilità o cose del genere. Si parte con 1800 simoleon, se vuoi azzardare puoi partire anche da 0, però sappiate che lei non può avere una carriera usuale, quindi sarà molto più difficile. Per farlo, CTRL-C, CTRL-ALT-C, si apre la barra dei trucchi, inserite money 0 o money 1800, se si parte da quella somma. Sono ammessi i CC, come potrete notare, sono ammessi anche le mod, ma non vanno sfruttate per guadagnare più soldi, o per facilitare le abilità. Ci sono dei tratti acquistabili vietati, vale a dire la pozione della giovinezza, frugale, imprenditoriale, servizi gratuiti, contatti, albero del denaro, indipendente e autosufficiente. Sulla pozione della giovinezza c'è una postilla, nel senso che se voi utilizzate la MCC Command Center e avete attivato l'invecchiamento casuale, come me per esempio, una volta che avrete portato la simma nell'otto vuoto, se la simma parte già con la barra della vita avviata, in quel caso all'inizio potete aggiungere tramite la MCC Command Center 1500 punti, soddisfazione, acquistare la pozione della giovinezza, fargliela bere e riazzerare la barra, ma solo all'inizio, una volta messa, non deve passare neanche un giorno simma, mi raccomando. Però poi per il resto sarà vietata. La vita va impostata sul normale, ma se si utilizza la MCC Command Center si può impostare la vita anche un po' più lunga, l'importante è non superare dei parametri, bebè 3 giorni, toodler 10, bambino 15, adolescente 15, giovane adulto 30, adulto 30 e anziano 15 giorni. Ma andiamo nel vivo, generazione 1, la nostra Fonder, che si ispira appunto alla Dea Demetra. Chi è la Dea Demetra? È la Dea dei cereali, della flora, dell'agricoltura, del raccolto, della crescita e della nutrizione. Era una delle divinità maggiori dei misteri e le usini, dove il suo potere sul ciclo della vita, delle piante, simboleggia il passaggio dell'anima umana dalla vita all'oltretomba. E nella nostra Demetra, quindi, essendo una Dea della flora, cereali, agricoltura, cosa potrò mai fare, ragazzi? Dai, attiviamo la fantasia, so che ci siete già arrivati. Ovviamente qui si apriranno due strade, cioè per chi non possiede vita in campagna e per chi invece possiede vita in campagna. Ma non preoccupatevi, in info box c'è anche il link al mio Tumblr con il regolamento completo e ci sono entrambe le versioni. Nel caso mio, che ho l'espansione, lei ha dei tratti obbligati. Appassionate di animali, ama l'aria aperta e corretta. Se non aveste vita in campagna sarebbe sempre corretta, ama l'aria aperta, però al posto di appassionate di animali avreste fanatico del verde. L'aspirazione è, per lei che ha vita in campagna, custode di campagna. Se non l'avete sarà natura, fanatico dell'aria aperta. Deve piacergli il verde, è il suo colore preferito, verde. Quindi impostate il verde come colore preferito e poi potete rappresentarlo come meglio credete, nell'arredamento, nei vestiti, nei capelli, oppure anche no, insomma, con questa scelta vostra. Allora, fatto ciò, lei si deve trasferire. Quindi direi che possiamo andare a un tratto premio che dovrà acquisire durante il gioco, in entrambi i casi, è pollice verdissimo. E adesso è arrivato il momento di trasferirla. Se avete vita in campagna sarà Hanford Donbegley, se non avete vita in campagna sarà Windenburg. Ma io avendola andiamo nel nuovo lotto, nel nuovo scenario. Iniziamo. Nel frattempo che carica vi dico i trucchi, gli obiettivi scusatemi della generazione. Deve avere almeno un figlio maschio e una figlia femmina, continuare a fare figli finché non escono entrambi i sessi. Se si è avuto da subito dei gemelli ed sono un maschio o una femmina, è possibile decidere se fare altri figli oppure non farne. Dovete raggiungere il livello 10 nell'abilità di giardinaggio, raggiungere il livello 10 in punto croce. Dovete celebrare ogni stagione con decorazioni e eventi come festività invernale, giorno del raccolto, giorno dell'amore e creare una festività tipo ferragosto per l'estate. Ovviamente se non avete stagioni questa parte è la grissate. Si può sposare ma solo una volta raggiunta, anzi si deve sposare ma una volta raggiunta l'età adulta non prima. Ma non è obbligatorio che sposi il padre dei figli. Deve partecipare ad ogni contest, quella della torta, degli ortaggi e degli animali e vincerne almeno uno. Il figlio maschio durante l'infanzia e l'adolescenza dovrà acquisire tratti speciali, irresponsabile e polemico. E il figlio maschio, che sarà l'erede della seconda generazione e la figlia femmina, dovranno avere un brutto rapporto. Facoltativo per gli amanti del paranormal, la Funder può essere un'incantatrice. Ovviamente l'erede della prossima generazione dovrà tornare un essere umano. Non ci sono imposizioni sui lotti di grandezza, tanto ogni generazione avrà il proprio quartiere. Quindi vi dovrete spostare durante l'arco della sfida. Ovviamente se decidete di trasferirvi tipo qui a Villetta Segreta di Cordelia dovrete demolire il lotto. Perché lei deve partire comunque da 1800 senza casa o da zero senza casa, se no sarebbe troppo facile. Ma io scelgo di andare qui, Viottolo del Vecchio Mulino 2 e andiamo. Ragazzi siamo arrivati. Mi impronta oggi il mio quartiere verde, ah che bello. È un quartiere save file. Allora siamo arrivati, lei è già attesa, molto bene, seriously. Sente di avere, va bene, ok va bene. E lei è arrivata in questo lotto vuoto. Dobbiamo impostare i soldi, money 1800. Per attivarlo ctrl alt c, nella barra dei trucchi scrivere money 1800 o money zero se siete amanti della sfida dura. Allora, vediamo lei un attimo, infatti a me vedete lei è appena messa, mi parte già, a parte che mi sa che devo controllare modalità di gioco, infatti non c'è l'invecchiamento, va ammesso. È impostata sul normale, va bene. Mostra capricci, perfetto, quindi applica modifiche. Ok, lei non mi è partita da zero. Ora, voi vedete ragazzi, 28 giorni perché ho messo a 20 la vita del giovane adulto con l'MC Command Center. Vi faccio vedere anche nel caso foste nella mia situazione come fare per prendere la pozione della giovinezza. Incrementa i punti, aggiungi i punti di soddisfazione, 10.000 sono decisamente troppi. 1.500, ok, fatto, fatto ciò andiamo a comprare la pozione della giovinezza, gliela facciamo bere immediatamente. Non vale fargliela bere, ovviamente non è che io posso giocare una settimana simnica, farle fare robe e poi riazzerare l'età, cioè assolutamente no, va fatto subito. Vai, quindi bevi, torna giovane. Sì, non guardarla con tutto questo sospetto, dai, non è... Sì, è un po' sospettosa bere sta roba. Guardate che faccino, no, vabbè, io lei già l'amo, questo è assodato. Dai, bevi lassù. Bravissima. Demetro Limpus è tornata a 30, la barra è piena. Registrati al Ministero del Lavoro. E poi ti faccio un buco, giusto per darti un tetto sulla testa. Ok. Come si può dire, fattrice sarebbe, ma non mi piace molto. Fattrice, anzi, proprietaria di fattoria. Perfetto. Non ci sono... Malacca è che... Mannaggia te. Vabbè, fattrice, dai, e ciao. Non mi viene... Ragazzi, c'ho un lapsus atroce. Come si dice? Ah, coltivazione di frutta e verdura e allevamento di animali. Ok. Ci siamo registrate e adesso vogliamo di fargli... Non ho sbagliato. Perdono, di fargli questo tetto. Perché sarà veramente un tetto. Ok, direi che questo è anche troppo perché altrimenti mi finisce subito i soldi. Mettiamole un tettino. Ma secondo me l'ho fatto anche troppo grande. Possiamo ristringere ancora un poco. Forse è ancora troppo grande, figuriamoci ragazzi. Sì, mi basta anche più piccolo. Guadagniamo più simoleon possibili perché ne avremo bisogno. No, una porta mi serve. No, questa non mi piace. Ma quanto costa? 50? No, un po' oltretutto costa anche di più. Quindi non c'è proprio senso. Vai. Questa porta va benissimo. Non gli metto né tinte né finestre perché qui ora è il momento dobbiamo fare proprio la massima economia. Ah, raga... Ok. Questa è andata. Li mettiamo un WC. Vorrei tanto che lei potessi usare il vasino. Oddio. Mettiamo questo che è quello che costa meno, anche se è comunque troppo. Ci rimane pochissimo. Vediamo se ci rientra almeno il frigorifero. Sì, almeno il frigorifero c'è rientrato. Già che siamo qui, vorrei vedere di far rientrare anche l'orto. Insomma, facciamo due apprezzamenti. Ok, così c'è anche un orticello. E direi che il pollaio 400 simoleon non ce la facciamo. Per cui questo lo userò poi, prima o poi. Ok, basta. Ci siamo. Quindi ragazza, inizia l'avventura. Sono le 9.54 di mattina. Dove sei finita? Cosa vorresti fare? Vai a fare jogging. Aspetta, voglio darti con la... No, crociola, tal sole, no. Con dove cappero è... Non la slice of life. Life desider. Un tratto bonus. Oh, brava cuoca. Io sono molto felice. Visto che Belli invece è venuta fuori. Cattiva cro, cuoca. Vabbè, voglio... È presto, guarda. Ti voglio far contenta. Vai a fare jogging. Poi però ci dobbiamo assolutamente mettere sotto. Perché dobbiamo farci un po' di soldini. Che qui non abbiamo. Allora, mentre lei corre, io do un'occhiatina intorno. Perché non si sa mai che... Si becchi qualche cosa di interessante. Uh, qua c'è una tana di conigli. Qui non ci sono conigli nascosti. Ok. Niente, non ci sono conigli nascosti. Peccato. Avrei voluto farle vedere dei coniglietti. Quanto è bello questo quartiere, ragazzi. È bellissimo. C'è questo ponte. Ma poi l'avete visto il ponte a tronco. Cioè, che cosa fantastica. Amo Hanfly. Vabbè, insomma, io ancora non so dire il nome. Non l'ho ancora memorizzato. Hanford on Bagley. Se non mi sbaglio. Ma è veramente bellissimo questo quartiere. Curato bene. Non sembrava neanche della game base. Subbiliamo. Mentre lei corre se io vedo qualcosa. Ma non c'è niente, eh, ragazzi. È veramente una moria. Qui c'è sto tizio vestito in maniera assurda. No, ma complimenti per l'abito. Non c'è niente. Campi sterminati di niente. Il che è un peccato. Perché la nostra avrebbe bisogno di qualcosina. Però vedi, guarda che bello. La mattina si fa il giro di questo... Di questo park. Non è un park, insomma, di questo campo. Bello. Bello. Quasi la invidio io, ragazzi, ve lo dico. Vorrei viverci io qua. Io devo farne anche qualche foto. Perché vi giuro, mi piace tantissimo lei. Poi ho scaricato una mod per le luci. E fa dei colori fenomenali. Belli, belli, belli. Quindi è un piacere guardarla. Hai fatto, tesoro? Perché ora davvero dobbiamo darci da fare. Vai avanti veloce. Ok. Ora sei contento? Non vuole una gravidanza in questo momento. Beh, sì, ci credo. Perché abbiamo soldi e malapena per mantenersi noi. Ci mancherebbe solo di avere una gravidanza. Per dover mantenere anche un bambino. Va bene. Allora direi di andare in centro. Ed eccoci. Siamo arrivati. Avendolo già provato. So già cosa voglio fare. Cioè, tipo andare da Kim. E fare una bella presentazione rispettosa. E offrirli aiuto. Ehi, salve. È piacere di conoscerla. Mi sono appena trasferita qui a Hanford. Don Begley. Bellissima cittadina. Parla a cuore aperto come si usa a Hanford. Demetria non si è incorretto. E si è incorretto rispettano gli altri e le norme vigenti. E qualsiasi comportamento inappropriato li rende furenti. Ora hai bisogno di una mano. Io sarei molto lieta di poterti dare una mano. Di poterti aiutare. Migliori sono gli ingredienti che usi. Migliore è l'esito della ricetta. Il mio chiosco alimentare è sempre ingredienti freschi che non mancheranno di valorizzare qualunque tua ricetta. Voglio, tra l'altro, ragazzi, cambiare una cosa nell'otto e mettere vita semplice. Perché vorrei che lei potesse cucinare solo con gli ingredienti che ha. Compro articoli in negozio alimentare. No, facciamo un aiuto. Offro aiuto a sbrigare le commissioni. Allora, io farei troppo da fare. È piacevole vedere una faccia nuova da queste parti, ma al momento ho troppo da fare per presentarmi come si conviene. Sempre che tu abbia il tempo e il cervello per renderti utile, saresti così gentile da occuparti di qualcuno di questi ordini alimentari. Oh, e ho di nuovo dimenticato di mangiare per non parlare del bouquet che stavo per preparare per la mia amica. Questo, qui non ho creature, quindi non lo posso fare e non ho voglia di mettermi a cercare ingredienti, stessa ragione. Quindi, accettiamo. Ti devo la vita, devo raccogliere alcuni ordini alimentari, quindi prendi nota di ciò che vogliono i sim e fammi sapere. Se non ti dispiace, avverto il leggero languorino e vorrei mangiare un boccone. Potresti portarmi una porzione singola di cibo a tua scelta? Stupiscimi. Oh, un'altra cosa. Lascia che ti dia una rosa da portare all'adorabile e sorvegliante di creature che dimora nel bosco di Bramblewood. Mi sentirei un po' a disagio a portargliela di persona. Ti dispiacerebbe pensarci tu e dirmi qua com'è andata? Ma certo, farò volentieri da Ruffiana e Cupida. E ragazzi, no, non c'è la signora Agnese Crumblebutton. Chi è questa? Vabbè, fa una presentazione rispettosa. Basta chiacchierare con Kim e vai qua da lei. Una presentazione rispettosa. Compra gli articoli dei negozi di giardinaggio e poi freamo anche a lei il nostro aiuto. Può giocare a basket. Tesoro, ma che... Ma anche no. Non è il momento. Sì, salve, liate a riconoscerla. Mi sono appena trasferita. Abbiamo... Lei ormai oggi ripeterà a nastro questa cosa. A Connie, se non mi interessa. Bocca di leone ci farebbe rendere bene. Però costa troppo, non c'ho nemmeno i soldi per comprarla. Dolcetta alla frutta, dolcetto a salutare. Fagiolino nero, fertilizzante. Fiori e frutti d'agricoltorecento non ho i soldi. Mi sa che ragazzi non... Non comprerò niente. Perché non ho i soldi per comprare un emerito niente. No, ok, va bene, lasciamo stare. Raccogli l'ordine alimentare. Approfittiamo di fare questo e poi offriamoli aiuto. Vorrei ordinare tre uova. Va bene. Ma lei come fa a essere parente? Oddio. Parla anche a cuore aperto come si usa a Hanford. Voglio vedere se gli dice qualcosa di particolare. Allora, vediamo. Oh, cosa vedo mai? Una faccia nuova? È sempre piacevole vederne una in giro per il paese. Molto diversa da come la Agnes Crumblebutton. Perché, ah, vabbè. Saresti così gentile da darmi una mano con alcune incombenze? Ho sentito che circola qualche pettegolezzo piccante, ma ho solo due orecchie. Riusciresti a trovare un gnomo che sappia alcune cose e qualche sim che non sappia cosa si perde? Mi aiuterai, vero? Oh, certo che sì, te lo leggo negli occhi. Oh, mi interessano semi, quindi la farei. Oddio, questa... Come va con quel tuo giardino? Tu hai un giardino, no? Sono sempre in cerca di qualche nuova pianta. Siamo quindi d'accordo che mi aiuterai? Proviamo a farla. Che mi raccolti. Sai che è sempre in giro ad ascoltare? Gli gnomi trovano gnomo nel posto e chiedergli qualche pettegolezzo, dopodiché festeggeremo con qualche cosa di dolce. Sai cos'altro potrebbe essere utile? Trovami qualche sim single. Sono sempre in cerca per il mio nuovo progetto. Vorrei facilitare gli incontri tra loro. Cioè, lei è l'opposto di Agnes Crumblebutton? Quando la mia golosità inizia a tormentarmi, mi schiaffeggio il dorso della mano per riguardirmi ed esclamo, scordatelo Agatha, niente dolci, neanche uno. Detto questo, mi rimpinzo di bacche per soddisfare la mia voglia matta. Ma temo che stai di nuovo prendendo il sopravvento. Presto, portami un mirtilo selvatico. Va bene, allora, troppo da fare. Quattro ordini, uno l'abbiamo preso. Dobbiamo fare una porzione di cibo e consegnare la rosa. Devo parlare con uno gnomo o trovare due single? Dove lo trovo uno gnomo? Ah, è sempre possibile acquistare degli gnomo in modalità costruisci. Allora, speriamo di trovare uno gnomo. Questo simtrice. Proviamo a fare una presentazione rispettosa e prendere intanto il suo ordine alimentare. Grazie, Agatha. Lei è molto gentile a differenza di sua. Non so che parentela abbia. Dove puoi trovare semi? Beh, ovviamente visitando il chiosco di giardinaggio dei Crumblebutton a Finchwick. Immagina tu possa acquistarne al computer e trovo ordinarli presso un servizio di consegna alimentare ma perché non comprarli nel posto migliore? Magari sono di parte. Oh, abbiamo anche il sindaco. Presentazione rispettosa anche col sindaco. Ah, bene, ci sta insultando il tizio. Malvagio. No, non ti scusi perché non hai fatto nientri male. Raccogli l'ordine di loro due però. Almeno facciamo, rendiamoci utili. Parla a cuore aperto. Ah, non posso neanche... Giù sono già tre. Non posso offrire aiuto a sbrigare commissioni. Reproduzione propria. Gli animali puliti e felici si piazzano sempre meglio alla fiera di Finchwick. Quelli tristi sono invece deprimenti. Ok, va bene, hai raccolto l'ordine, sì. Me ne manca uno. Prendiamola a lei, fa una presentazione rispettosa con lei. Lui è malvagio quindi lasciamo perdere questo Kobe che è maleducatissimo. Sì, salve, è piacere riconoscerla. Sono un'uova di qua, ma va. Raccogli l'ordine alimentare. Non ho visto cosa voleva lui, ma scommetterei che voglia delle uova, infatti. Uovo. Uova. E anche lei vorrà delle uova. Bene. Andiamo dalla tizia. Cioè, signora, raccogli l'ordine alimentare. Mi manca qualche uovo. Va bene, Agnes, te lo porterò. Stavolta l'ha preso. Ok, trasmetti gli ordini. Basta parlar con lei che irritarla è facilissimo. Cioè, guarda, non penso l'ora di farti... Io vorrei renderla immortale, Agnes, però, perché a me mi piaceva tantissimo. Mi divertiva il suo essere così scorbutica. Bene, devo consegnargli una dozzina di uova. Cosa che non abbiamo assolutamente. Direi di prepararle un pasto. Fai cucina. Facciamoli del pudding allo Yorkshire. Porzione singola. Non parlare con lei ora. Vai a lavorare, tesoro. Su, dobbiamo evadere questi ordini. Ho bisogno, tra l'altro, di trovare dei mirtili selvatici da piantare e sperare che poi mi facciano. Oh, c'è l'ignomi. Parla. Quando hai fatto. Perché sei furente? Ah, perché lui è stato crudele con te. No, non... No. Perché non deve gradire la cucina? Lei la gradirà alla cucina. Ma la immagina a fare conserve, marmellate e sciroppi? No, non esiste. Lei è furente perché... Si vergogna... Imbarazzo per il suo look? Vabbè. Conversazione irritante. Sensazione di furia dopo una conversazione spiacevole. Sì, mi dispiace, ti ho mandato proprio a parlare con un sim e poco simpatico. Vedo che i tuoi mood sono molto buoni. Tra un po' avrai il ciclo. Non ti azzardare a mangiarlo. Mettilo nell'inventario. Vai. Parla con il... Sei ancora furente. Prova a calmarti, guarda tesoro. Cerca di calmarti. Ragazzi, è un bug fastidiosissimo agli specchi. Dovrò chiedergli se è single perché? Come faccio a saperlo? Dai, presentati. No, va bene, presentati con lei. Pace e l'anima sua. Ciao, ho piacere di conoscerti. Senti, ma... Ferma. Romantico. No, io volevo chiedere... Dai, non puoi essermi adirata ora, ma perché? Mi devi rompere le uova nel paniere. Facciamo così. Vieni qua, amichevole. E dagli il pasto. Consegna una porzione di cibo. Padding dello Yorkshire. No, basta, basta. No, non puoi essere furente e arrabbiarti con le persone. Ti manda a casa, veramente. Non puoi fare così, eh. Guarda, tieni. Ti ho portato alla cena. Spero che gradirai. Bene. Oh, grazie. Sei stata molto gentile. Lo adoro. Mi fa piacere. Allora, viene da lei e riferiamo. Quanto gli ha detto l'ognomo? No, fai fuoco e fiamme, no. Devi piantarla. Riferisci per te colezzi di l'ognomo. L'ognomo si è imbattuto in due abitanti che facevano cosa? In un capanno per animali. Oibo, farai arrossire un'anziana signora. Non vedo di dirlo alle galline appena ci troviamo per ricamare a punto croce. Ammazza, galline intelligenti, ragazzi, vero? Allora, direi che potresti sbollirti. Ok, visto che lei è furente, mi auguro che prima o poi si calmi, ho deciso di rimandarla intanto nel bosco. Davo a trovare il vigilante che io ogni volta mi scordo dove Cappero è casa sua. Dove? Era per Cappero, se non ricordo male. No, invece mi ricordo male. Non era così in alto. No, qui i conigli non ce ne stanno. Qui c'è questo bellissimo gazebo. Qui ci saranno le volpi. Non c'è piante nemmeno qui. Troviamo sta casetta. Dov'è? Oh, siamo arrivati da lui. Ecco, se non mi salisse su sarebbe meglio. Sì, salve. Consegna la rosa. Guardi, sono qui per darle una rosa per conto della proprietaria dei negozi alimentari. Spero che la gradisca. Vediamo. È un bel fiore, ma mi domando se chi gestisce i negozi alimentari si sia fatto un'idea sbagliata di noi. No. Porgi i miei saluti e, oh, lascia che ti dia questi funghi affascinanti e verdeggianti da portare con te per ricambiare la sua cortesia. Possono essere un regalo o no? A te decidere non vorrei fare niente di inappropriato. Quindi volendo ci potremmo anche inchiappettare i funghi, ma lei non è così. Quindi scambia le bacche. Sì, non ce n'hai che scambia le bacche. Proviamo a vedere se qui... Riusciamo a... Oh, prova a stanare i conigli. Dai. Sì, bene, grazie. Riferirò. Poi torneremo a fare qualche commissione anche per lui. Ma vorrei vedere... Vi prendi vedere qualche coniglietto. Oh, qui c'è anche qualcosa, finalmente. Oh, tesoro. Socializza, carezza il coniglio selvatico con entusiasmo. Chiedi qual è il punto di vista del coniglio selvatico. No, che carino. Mamma mia, che meraviglia lui. Regalare. Scopri le preferenze di regalo. Cosa ti piace come regalo? Lei ha fame. Cosa è che non ti piace? Parla di giardinaggio. Socializza. Accarezzalo di nuovo. Mamma mia, no, no, ragazzi, ma un amore. È fantastico, sto coniglietti. Sono meravigliosi. Abbiamo anche... Custodio di campagna abbiamo fatto qualcosa. Una volpe, un coniglio, cinque volte. Ah, grazie. Acquista un orto. Ok, ho fatto anche questo. In effetti, devo acquistare una mucca, un pollo, un lama. Lo faremo. Scava. Allora, Demetra ha trovato... Cosa ha trovato la nostra Demetra? Questo, wow. Vabbè, vendiamolo. Questo ancora non è pronta. Vediamo se qui trovo qualcosa. Mi metto a cercare io perché mi rendo conto che altrimenti è un pochino noioso stare a cercare tutta la roba. Tra l'altro ho trovato una ciocco bacca. Andiamo a raccogliere quella. Vorrei anche un mirtillo, ma... Comunque veramente, per essere un lotto di campagna, non c'è una mazza di piante e roba del genere. Ho trovato solo una piantina di ciocco bacche. Basta, nient'altro. Oh, raccogli l'acqua. Ah, sì, dai. Vieni a raccogliere l'acqua. Quando hai preso la ciocco bacca. È poverissimo di piante. Andremo a Windenburg, andremo a Willow Creek, a Ossie Springs e lì c'è più cose. Poi torniamo a casa perché lei ha fame. Oh, aspetta, c'è qualcosa. Mirtillo selvatico, perfetto. Questo ci fa comodo. Ok, dai, raccogli un pochino d'acqua, brava. Non è tornata felice. Eccoci, lei è qua, perfetto. Quindi porta i saluti ai funghi perché lei è onesta, quindi non farebbe mai la furba. Guarda, questo è quanto mi ha detto il sorvegliante dei boschi. Oh, dei funghi ti ha dato, che carino, che pensiero gentile. Vediamo cosa ci dice in realtà. Lei è venuto al ciclo, sono sicura. Esatto. Oh, sapevo che ci si può affidare di chi sorveglia le creature. Funghi è per giunto un fungo affascinante. Posso certamente cogliere l'allusione. Apprezzo senz'altro il tuo aiuto e la tua descrizione a riguardo. No, non hai colto l'allusione. Era in effetti inappropriato. Forse era meglio che me lo tenessi io. Tu intanto usa il gavinetto e fai un pasto veloce. Cracker al formaggio. Dopodiché, tesoro, questo lo voglio tenere per quegli abnormi. Vai, mettiamoli qui e dopodiché vieni a piantarmeli. Poi ti posso mandare anche a dormire, mia cara. Me ne sta piantando lei. Oh, ma grazie, Kim. Ma che carina. Beh, lei è molto, molto carina, molto simpatica. Me ne sta pure innaffiando. Dai, parliamo un po' con lei allora a questo punto. E non lo so, chiediamo, discutiamo degli interessi. Tanto penso che avrete molto in comune. Sì, lo so, questa casa è ancora molto spoglia, ma sono appena arrivata, non ho molti soldi. Prima o poi ce la farò. Ok, siamo arrivati. Dobbiamo consegnarle anche un dessert ad Agatha. Può andarli bene dei dolci al cioccolato premiscelato. Fai questo, dai. Wow, qui andiamo a sfoggio delle tue abilità. Non fa poneggiarti troppo, però. Voi? Vogliamo fare qualcos'altro? Ok, dai. Finisci. Aspetta, lei è single. Quindi vieni qua, altre scelte amichevole. Chiediamo se è single a lei, perché io so che lei lo è. Mi piace il sorvegliante, quindi è tecnicamente single. No, ho sbagliato, ho nullato l'opzione. Sì, ciao, senti, ma quindi tu sei single, me lo confermi, giusto? Sì, certo che sono single, anche se il mio cuore è impegnato. Molto bene. Bene, possiamo almeno terminare la signorina. No, non c'è Agatha. No, devo assolutamente invitare qui Agatha. Che voglio, la voglio. Invita nel lotto attuale. Allora forse qua, da qualche parte. Ok, me la sono portata a Willow Creek dal momento che comunque voglio vedere se riesca a raccogliere qualcosa. Poi ci salutiamo, ma intanto questa la faccio vedere. Sì, Agatha, grazie per essere venuta fin qua. Volevo riferire. Tigno Mosco? Senta, Agatha, consegna il dessert anche. Ho fatto anche questi dolcetti al cioccolato per lei, mi auguro che siano di suo gradimento. E per me me le hai fatti davvero? Ma sì, certo, oh, grazie. Bene, io faccio le foto, nel frattempo riempirò il mio canale Instagram di sue foto, sappiatelo, perché la adoro follemente. Oh, ma grazie, li mangerò ben volentieri. Meno male, grazie Agatha. Oh, abbiamo anche avuto semi di zucca, semi di fungo, uno gnomo, che questo mi interessava meno, ma vabbè, l'ognomo c'è me lo vedendo. Arrivederci, 275 simoleon. Grazie, signorina Crumble Button, posso tornare a casa e comprarmi un pollaio. E niente, allora, io tornerò a casa, le comprerò il pollaio, e intanto la mando un po' qui a girottolare per vedere di trovare qualche seme. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, no, scusami, non romantico, e che vi sia piaciuta anche quest'idea di questa legacy. Se vi piace, ovviamente, potete riproporla e rifarla per conto vostro, per condividerla, questa come preferite. Io vi mando un grosso bacio, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e commento. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se volete restare sempre aggiornati, potete fare clic sulla campanellina, così sarete sempre avvertiti. Alla prossima! Dag dag! Grazie a tutti. Grazie a tutti. را